Ciao, astronomi! Oggi voglio mostrarvi perché l'ESATTO è il microfocussore perfetto per i telescopi celestron HD ed i telescopi simili, per avere le migliori performance in astrofotografia! Telescopi celestron HD, come tutti i telescopi smith-kassagrens, vengono con un meccanismo interno che muovono il mirro primario per permettere di ottenere il focus con tutte le pieghe, con o senza diagonali di mirro e con tutte le camere di astrofotografia. Ma, con il mirro primario, potete trovare problemi di schifo di immagini e di floppio, che sono normali con un tipo di concentrazione internazionale. That's why Celestron ha aggiunto nei telescopi HD HD un meccanismo di mirro primario che locka il mirro primario in posizione. Ma, in questo modo, non puoi precisare di concentrare ancora. E questo è il primo grande avventaggio di usare un microfocussore externo come l'ESATTO. Quindi, con il connesso con il telescopio, puoi concentrare con il mirro primario locked, e non hai più di schifo di immagini e di floppio di mirro. E questo porta al secondo grande avventaggio di usare l'ESATTO come un microfocussore externo. Tu hai il mirro primario locked, e, allo stesso tempo, puoi controllare il focus, anche remotamente. Per esempio, se puoi impostare il tuo software astrofotografia per rifocussare in between le foto lunghe esposizioni di esposizioni, puoi facilmente rifocussare tutta la nuova, anche quando cambiare filtri. Ok, quindi, so che tu avrai molti domande, quindi, cominciamo! Il mio microfocussore è un microfocussore, quindi ha una scena di viaggio lunghezza. Può essere sufficiente di concentrare con diverse piacere o diverse camere? Ok, certo! In fact, quando cambiare l'occasione, dovrai fare solo una piccola adjustazione di focus, e, se in qualche caso dovrai cambiare il focus molto, per esempio, quando rinnovi un occasione e installi una camera, puoi sempre rinnovare l'occasione internazionale prima, e poi usare l'ESATTO. Grazie! I telescopi Edge HD necessitano il sensore per essere una distanza precisa dal telescopio. Is the ESATTO too thick for this? No, it's not! In fact, all the Edge HD telescope have a long back focus, 133mm for the 8 inches model, 146 for all the others! And since the ESATTO 2 inches is only 67mm thick, you still have a lot of space to properly set your camera sensor. Ok, can I use the larger ESATTO 3 inches microfocusser on my Edge HD telescope? Well, theoretically you could, but it's not needed. That's because the ESATTO 2 inches free aperture is already larger than the Edge HD internal bifold tube, so a larger ESATTO is really not needed for the Edge HD telescopes. Wonderful! But I have the Edge HD focal reducer, can I use it? Of course you can use it, also with the ESATTO microfocusser. The focal reducer is designed to be directly threaded to the rear chair of the telescope, because the lens group has to be at a precise distance from the internal flattener. One of the greatest features of these telescopes is that the focal reducer doesn't change the back focus requirements in 9.25, 11 and 14 inches model. So, if you properly set the back focus without the reducer, you can install the ESATTO microfocusser after the reducer and it will work in the same way. Only the 8 inches model, the back focus is reduced from 133mm without the reducer to 105mm with the reducer. Oh wait, now we have the third great advantage of using the ESATTO microfocusser together with the Celestron Edge HD telescopes. In fact, you can use it also to properly set the back focus distance of your camera sensor. Take a look at this setup I have here. By adding the ESATTO after the focal reducer, I still have plenty of space to let me use an OAG with an autoguider and a filter drawer or a motorized filter wheel. By adding this cooled camera, I have my sensor at around 140mm from the telescope rear cell. So, in order to have the perfect back focus, this is what I do. I extend the draw tube for the missing length to reach the perfect back focus position, in this case 6mm. I can also record the draw tube extension in the virtual handpad in order to easily recall it when needed. Then, with the telescope pointed at the nice sky, I use the internal focuser to get sharp picture and I lock the primary mirror. This way, during the night, I will be able to use the ESATTO only for microfocus adjustment that have no impact on telescope performance. By using the ESATTO microfocusser with Edge HD telescopes, you have a perfect focus management of your telescope, that is very important, especially in astrophotography, in order to have the greatest performance. You can remotely control the focus and you avoid all the problems related to image shift and mirror flow. That's why the ESATTO is the perfect microfocusser also for Edge HD telescopes. is very helpful. 2 2 1 4 Grazie a tutti